ok buongiorno a tutti da Svizzera 360 e benvenuti in questo nuovo video allora non dirò nulla, non argomenterò nulla in questo video volevo solo avvisarvi che dal 17 giugno al 30 giugno sarò in ferie quindi cosa succederà al canale? non pubblicherò video ovviamente mi rilasserò e non farò un cavolo tutto il giorno quindi mi sbaccherò al mare tranquillo a rilassarmi e niente volevo solo annunciarvi questo allora sicuramente farò un casino di video, un casino di foto e tutto quanto per prepararvi appunto un bel video da portare sul canale quando tornerò, quando riuscirò a editarlo e tutto quanto poi dopo il 30 giugno ripartirà sempre come da adesso più o meno ogni sabato e eventualmente ogni domenica la pubblicazione del video adesso vedremo se fare un video unico o non lo so spezzarlo in diversi momenti non lo so, non lo so adesso magari pubblicherò qualcosa sul canale facebook non lo so, non lo so non vi dico niente perché non so come andranno le cose se ne avrò voglia, se ci sarà tempo vedremo, vedremo dai sicuramente tantissime clip le farò farò veramente tantissime clip tantissime appunto per montare, per costruire un bel video dell'estate di Fizzera andrò tra il 60 estate 2019 e niente, quindi dal 17 fino al 30 giugno non dovrei pubblicare alcun video quindi non prendetevi male questo sabato ci sarà anzi lo vedrete domenica domenica lo vedrete questo quindi domenica questa quindi è l'ultimo video quindi teoricamente da domani andrò in ferie se va tutto bene se fila tutto liscio perché da me sapete com'è però ho già detto che da lunedì io spengo il telefono spengo tutto e non voglio sapere più niente da nessuno possono anche morire tutti e non ci sono più e via niente era solo questo io volevo dirvi ci vediamo al prossimo video allora ciao ciao